Nelle zone in cui le precipitazioni sono nevose e le temperature sono talmente basse che la neve che si accumula annualmente in forma solida supera la quantità di quella che fonde, si formano accumuli perenni di acqua in forma solida, ovvero di ghiaccio. I ghiacciai si formano al di sopra del limite delle nevi perenni, ad un'altezza che varia a seconda della latitudine del luogo, ovvero della distanza dall'equatore, dell'esposizione e del regime dei venti. In Italia i ghiacciai perenni li troviamo soprattutto, anzi esclusivamente, in alta montagna, nelle principali vette alpine al di sopra dei 2000 metri, mentre in Appennino abbiamo un unico ghiacciaio perenne, sulla vetta del Gran Sasso d'Abruzzo. La neve è costituita da fiocchi leggerissimi ed espansi, per cui ha un peso specifico molto basso. I primi accumuli contengono numerosi spazi pieni d'aria. Quando su di essa cade altra neve, quella sottostante si compatta, le cavità piene d'aria si riducono e la sua densità aumenta. A quel punto la neve si trasforma in ghiaccio compatto. Esistono numerosi tipi di ghiacciaio, i più diffusi dei quali sono formati da due elementi principali. Il bacino di accumulo, ovvero la zona posta a monte, in cui neve e ghiaccio si accumulano, ed uno più lingue glaciali, prolungamenti più o meno allungati che scendono fino a valle. Come vedremo, infatti, un ghiacciaio non è una formazione statica, ma si muove seppur molto lentamente. Al di là dei ghiacciai che vediamo in alta montagna, la maggior parte dell'acqua che si accumula sul nostro pianeta in forma solida, ovvero in forma di ghiaccio, la troviamo nelle enormi estensioni glaciali delle regioni polari. I poli del nostro pianeta sono le zone più fredde e inospitali della Terra, in quanto in corrispondenza di essi la notte dura per sei mesi consecutivi e i raggi solari arrivano con una direzione talmente obliqua che la quantità di calore che giunge al suolo è estremamente limitata. Di conseguenza le temperature in questi luoghi sono permanentemente sotto zero e si sviluppano notevoli estensioni di ghiaccio. Nonostante ciò, esistono notevoli differenze tra polo nord e polo sud. Il polo artico o polo nord che vediamo in questa immagine, in questa carta, risente di temperature decisamente meno gelide perché è costituito da un mare ghiacciato, detto appunto mar glaciale artico, circondato dalle fredde distese continentali del Canada, della Scandinavia, dell'Agroellandia e della Russia euroasiatica. In prossimità del polo nord, nella breve stagione estiva inoltre, lo strato ghiacciato scioglie a sufficienza da poter ospitare una rada vegetazione, costituita da organismi pionieri adattabili come licheni e muschi, ne riparleremo alla cosiddetta tundra artica. Inoltre, le masse d'aria sopra il polo nord, a differenza di quanto vediamo nel polo sud, sono soggette a rimescolamenti e scambi termici con quelle delle zone a latitudini più meridionali, determinando la vivacità atmosferica tipica delle regioni continentali dell'emisfero boreale. Viceversa, in corrispondenza del polo sud che vediamo in questa cartina, troviamo un vero e proprio continente, detto Antartide, completamente ricoperto di ghiacci per tutto l'anno. Le temperature sono estremamente più rigide, si sono toccate punte prossime ai meno 90 gradi e non esiste una popolazione umana permanente, salvo gli abitanti di stazioni temporanee di ricerca. Sul continente antartico, che vediamo in questa fotografia, non esiste alcun tipo di vegetazione macroscopica. La fotosintesi è limitata alle alghe microscopiche che vivono nei mari circostanti. Questo deserto gelido è popolato solo da alcune specie animali fortemente adattate al freddo intensissimo, come i pinguini, uccelli non volatori, che sono diventati il simbolo di questo strano continente. Mentre vediamo un bellissimo video che ci mostra il continente antartico, possiamo dire che in corrispondenza di aumenti di temperatura, naturali o dovuti alle attività umane, dalle calotte polari si staccano iceberg, enormi montagne di ghiaccio che vanno alla deriva nel mare e possono costituire un pericolo per le imbarcazioni che si trovano in loro prossimità. Avendo infatti il ghiaccio, una densità pari ai 9 decimi dell'acqua liquida, la parte emersa di tali iceberg, spesso imponente, nasconde una parte sommersa sotto il livello del mare che è 9 volte più estesa. E continuiamo a vedere queste belle immagini in questo spezzone video dell'Antartide. Tornando ai ghiacciai di casa nostra, possiamo dire che, come i fiumi, anche i ghiacciai sono agenti modellanti del paesaggio. Alla base di un ghiacciaio, per il peso degli strati sovrastanti, il ghiaccio fonde, dando luogo a un sottilissimo velo d'acqua, al di sopra di cui la restante massa del ghiacciaio scorre lentamente, come una massa plastica in movimento verso valle. Nel tempo i ghiacciai scavano caratteristiche valli dal profilo adù, quindi rispetto a quelle dei fiumi hanno una base più larga ed arrotondata e pareti più ripide. Inoltre un ghiacciaio in lento movimento strappa dei detriti alle rocce che incontra, e trasportandoli esercita un'azione abrasiva su altre masse rocciose, levigandole, ovvero allisciandole in maniera caratteristica. Tali detriti rocciosi, esattamente come fa un fiume, anche se in maniera molto più lenta, sono poi abbandonati, depositati a valle, formando le cosiddette morene, che vediamo in questa immagine, frontali o laterali, a seconda che il deposito venga sulla parte frontale o ai lati del ghiacciaio. Dalla posizione delle morene, le più estese delle quali formano degli anfiteatri morenici, a forma di semicerchio, è stato possibile individuare l'antica presenza di ghiacciai in luoghi ora non più invasi dai ghiacci, e dedurre che milioni di anni fa ci sono stati dei lunghi periodi in cui l'estensione delle zone coperte da ghiaccio era nettamente superiore all'attuale, i cosiddetti periodi glaciali o glaciazioni. Passiamo ora all'ultima fondamentale componente dell'idrosfera, che è data dalle acque sotterranee. La maggior parte dell'acqua potabile, utilizzata direttamente dall'uomo, deriva dalle falde acquifere sotterranee, che occasionalmente affiorano in superficie sotto forma di sorgenti. Si tratta di una quantità di acqua piccolissima rispetto al complesso delle acque terrestri superficiali, ma di notevole importanza. Non tutta l'acqua piovana che cade a terra va ad alimentare i corsi d'acqua superficiali o ricade nei mari, nei laghi o negli oceani. Una piccola parte di essa si infiltra nel suolo e prima di riaffiorare in superficie o di confluire nei corsi d'acqua principali può accumularsi nel sottosuolo. Il suolo, che deriva dall'interazione tra rocce e esseri viventi, è formato da strati di materiali di vario tipo. Strati permeabili, costituiti da materiali come la sabbia, che presentano dei pori che si lasciano attraversare dall'acqua, e strati impermeabili, formati da materiali come l'argilla e che non si lasciano attraversare dall'acqua. Se la porzione superficiale del suolo è formata da rocce permeabili che confinano con strati impermeabili in profondità, al confine tra due tipi di materiali l'acqua si accumula nelle cavità delle rocce permeabili, dando origine ad una falda freatica da cui l'acqua può essere estratta tramite appositi pozzi. Se invece più in profondità uno strato di rocce permeabili viene a trovarsi racchiuso tra due strati impermeabili, si forma una falda artesiana, che può essere raggiunta tramite pozzi più elaborati e profondi. Su terreni, formati da rocce ricche di calcare, le acque piovane penetrando in profondità reagiscono con tale materiale, dando vita ai fenomeni carsici, che si manifestano con alcune delle formazioni più spettacolari esistenti in natura. L'acqua piovana, che contiene anidride carbonica disciolta, reagisce con il carbonato di calcio, che forma tali rocce, trasformandoli in bicarbonato di calcio, che invece è solubile, si scioglie in acqua. Con il tempo, l'acqua che penetra in questo modo scava delle imponenti cavità nelle rocce che attraversa, cioè scava delle grotte. Spesso, come vediamo, dalla complessa struttura labirintica, costretti corridoi orizzontali e verticali intervallati da sale più o meno ampie. Inoltre, l'acqua che penetra attraverso, ecco qui, le pareti, le cavità, insomma, da essa stessa scavate, goccia a goccia, evapora poi in profondità, ridepositando il calcare sotto forma di guglie appuntite che pendono dal soffitto delle grotte, ovvero le cosiddette stalattiti, o al contrario come formazioni colonnari che si estendono dal basso verso l'alto se prima di evaporare la goccia è caduta a terra. In questo caso si chiamano stalagmiti, qui ne vediamo vari esempi di entrambi i tipi. I due tipi di formazione si chiamano concrezioni e a volte si saldano tra loro, dando luogo a delle colonne di calcare che si estendono dal pavimento al soffitto della grotta. In Italia, grotte carsiche si trovano nella zona del Carso Triestino, donde il nome del fenomeno, in alcune zone dell'Appennino centro-meridionale, come le grotte di Frasassi, nelle Marche, di cui vediamo un video con alcune delle bellissime ed estesissime concrezioni, stalattiti, stalagmiti e colonne, che l'acqua, come un grande architetto ha creato nel corso di milioni di anni. E poi in Puglia, anche piuttosto famose, abbiamo le grotte di Castellana. Godiamoci queste immagini delle grotte di Frasassi. E vediamo che infine, addirittura, nei terreni carsici, può capitare che ci siano dei fiumi che abbiano, che diciamo riescono a scavarsi delle loro cavità e abbiano una porzione del loro letto che è proprio sotterranea e inclusa all'interno di una cavità rocciosa, come il caso che vediamo in quest'immagine, o come il famoso caso del fiume Timavo in territorio sloveno, che a lungo tempo non si capiva dove andasse a finire e soltanto in seguito si è ricostruito il suo percorso, che ha un tratto sotterraneo, trattandosi di ambiente carsico, e sbocca di nuovo in superficie a chilometri di distanza sotto forma di quello che un tempo si credeva essere un altro fiume non collegato ad esso. Se questo video vi è piaciuto, l'avete trovato interessante, iscrivetevi al canale Il Signore delle Scienze, dove trovate tanti altri video interessanti, almeno spero che li troverete interessanti, e soprattutto tante altre curiosità legate al mondo delle scienze. Alla prossima!